salva gente allora finisce atalanta roma sonoro 4 a 1 dell'atalanta però una partita strana di cui vale la pena un attimo parlare prima però come sempre per chi non l'avesse fatto essere tantissimi che non avete ancora fatto iscrivetevi al canale non vi costa nulla cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sui contenuti calcistici ed extra calcistici di questo canale e alla fine dei video che andrete a vedere un bel like che sicuramente mi fa piacere e fa bene al canale alla dicevo partita strana partita strana perché allora intanto sappiamo ormai la storia tra gasperini e papu gomez è arrivata alla rottura totale il papu gomez non so se abbia fatto qualche altra cosa ulteriore questa settimana insomma passa dal giocare con la fascia di capitano nell'ultima partita a non essere neanche convocato per scelta di gasperini avallata anche dalla dalla società certo una scelta importante perché si affrontava una roma diretta concorrente insomma il potenziale sarebbe stato da mantenere al completo invece una scelta coraggiosa di gasperini una scelta che però inizialmente nel primo tempo sembrava un po masochistica nel senso lasciar fuori sia gomez che ilicic ha portato sì ad avere un'atalanta oltre poco attenta in difesa ma comunque molto prevedibile in tutte le zone del campo una roma aggressiva ben messa in campo è riuscita a chiudere ottimamente gli spazi la manovra dell'atalanta era molto lenta non aveva nulla di imprevedibile quindi era molto facile da leggere e gli mancava il guizzo ovviamente proprio di questi due uomini di gomez e di ilicic e si vedeva che questi due motorini erano assenti e che quindi quella marcia in più quel famoso 15 20 per cento in più che possono dare di carica questi giocatori era evidente che mancava la roma ne ha approfittato approfittato delle disattenzioni è rimasta abbastanza ben messa in campo concentrata sembrava padrona insomma della situazione finché non finisce il primo tempo e qui succede secondo me quello che è un po impensabile ovvero l'atalanta torna a campo con un ilicic e quindi con quella spinta in più la roma per 35 minuti si scorda proprio di entrare in campo a quel punto l'atalanta è tutta altra atalanta è un'atalanta che fino a 15 minuti prima quando era stava per terminare il primo tempo avresti detto farà fatica a pareggiare e invece poi trovi la solita atalanta che nei secondi tempi esce fuori emerge e nonostante si era consapevoli che non ci sarebbe stata la possibilità di mettere un gomez fortunatamente in questa partita torna torna il vecchio ilicic torna quel la bravura di questo giocatore la capacità di inserirsi di provarci di leggere bene le situazioni e di portare quell'imprevedibilità che nel primo tempo mancava incomprensibile l'atteggiamento invece della roma che veramente senza non saprei dire mi sembra strano che un giocatore ha potuto smuovere così tanto l'atalanta rispetto a una roma che non so forse si sentiva la partita in tasca ha visto l'atalanta molto lenta e prevedibile quindi entrata con l'idea di poterla domare ma si sa che la tea purtroppo è una squadra indomabile tante volte e questa volta per l'ennesima volta non solo con la roma con tante altre squadre ha fatto un secondo tempo da tea quindi un bellissimo secondo tempo travolgendo una roma che ripeto inspiegabilmente ha smesso di giocare non gli riusciva più nulla tramortita ma tramortita già prima del del pareggio quindi non so cosa sia successo un atteggiamento veramente sbagliatissimo nel secondo tempo non so se era stanchezza ma non credo perché fino all'ultimo secondo del primo tempo mi sembrava una roma che ci stesse dentro la partita dopo 15 minuti veramente una roma che non è riuscita a fare per nulla gioco ha giocato tra l'ottantesimo l'ottantacinquesimo in cinque minuti ha provato a ricreare qualcosa dopodiché ha rilasciato nuovamente il pallino all'atalanta una partita che onestamente pensavo la roma potesse portare a casa e che invece l'atalanta si aggiudica per quello che si è visto giustamente cioè nettamente non alla fine non è un tempo a testa perché il primo tempo la roma ha giocato ma l'atalanta seppur prevedibile ha comunque creato qualcosa quindi ai punti la roma stava meritando il vantaggio ma ai punti non una cosa schiacciante nel secondo tempo c'è stato una serie di montanti destri sinistri dell'atalanta che ha messo knock out l'avversario quindi il verdetto mi sembra chiaro una roma che fa decisamente un passo indietro da capire questo secondo tempo che che veramente non per me è inspiegabile insomma per quello che si è visto nel primo tempo un atteggiamento così nel secondo ripeto non mi sembra strano che solo l'entrata di Ilicic possa avere scombinato tutti i piani e tutto il gioco della roma credo che ci sia stato proprio un black out un lungo lungo black out e poi la paura di perderla forse la paura di perderla non lo so invece ad alanta ragazzi complimenti complimenti a gasperini che ha rischiato contro una diretta avversaria nel non mettere gomez nel seguire a questo punto quelle che sono la sua la sua idea che comunque già stava dicendo da qualche settimana ovvero di creare un'atalanta che fosse indipendente da Gomez e se Ilicic è tornato realmente quindi si confermerà l'Ilicic che conosciamo penso che non abbia problemi insomma ad assimilare in qualche modo questa ormai certa perdita del proprio capitano che sicuramente porta una diciamo una mancanza insomma leva qualcosa leva qualcosa di magico di imprevedibile leva qualcosa nelle accelerazioni all'Atalanta però l'Atalanta è una squadra talmente solida con degli ottimi giocatori che sicuramente riuscirà come ha dimostrato questa sera ad andare oltre a questo problema facendo gruppo cosa che mi sembra chiaro questa sera abbia iniziato a fare orive dolci ci vediamo al prossimo video tra un po' inizia la Lazio e probabilmente sicuramente riguarderà la Lazio